Oh hi! It's me again! Registrare, è tipo il terzo video che sta girando oggi, non so più parlare, non che di solito ci riesca, però dettagli e direi di iniziare subito, direi di iniziare subito con The Elephant in the Room e probabilmente avrete già visto delle cosine insomma della Wedding Collection, io mi sono innamorata di alcune cose in particolare tra cui questo, tra l'altro raga, Rez, c'è tipo strezzo al contrario, Rez, troppi ratti, oh mio Dio, sai? Non ci ho appena fatto caso, lo devo assolutamente far vedere a una mia amica che odierà a te! Ciao, Grey! Comunque, a parte tutto, il pack è veramente bello, io non ho cuore di buttarlo, è bellissimo, ovviamente tutto stile pizza perché probabilmente avrete già capito di che cosa si tratta, il Tumblr, anche questo tutto in pizza, cioè proprio c'è dentro del pizza i due strati di plastica ovviamente e è bellissimo, è bellissimo, c'è anche la sua cannuccia ovviamente, eccola qua, trasparente, mi piace tantissimo, Io non ne avevo così trasparentine, sì lo so che questa è la parte che va sotto, l'ho messa così adesso per comodità, non ho ancora utilizzata a zero, ho voluto proprio aspettare di farvi lol e non vedo l'ora di utilizzarla, dopo non so quanto che è uscito ogni volta, lo bramavo tantissimo, finalmente, eccolo qui, fuck proof! Raga, i nomi, i nomi, wow, io amo tantissimo, è il mascara, raga, raga dai che bello è, io lo amo ovviamente nella colorazione nera, ovviamente mentre che lo si utilizza si può togliere la parte del frustino per comodità insomma, non vedo l'ora di provarlo, ne ho sentito parlare bene, guardate quanto è bella anche tutta la trama, bellissimo! Matita labbra, questa nella colorazione dominatrix, è un marrone molto bello, lo trovo veramente veramente bello, è un marrone abbastanza caldino in realtà, e queste sono super morbide, cioè se non avete mai provato delle matite labbra di Jeffrey e avete appunto l'occasione, provatele, perché sono veramente veramente morbide, mi ricordano molto quelle di neve, per farvi un attimo capire, le potete infatti utilizzare volendo anche come rossetto, cioè sono proprio super confortevoli! Rossetto liquido, lo so raga, preparatevi, è una colorazione molto particolare, sto parlando di medusa, non l'ho ancora aperto, non l'ho ancora sbocciato, lo trovo veramente bellissimo, è tipo un greggio con una punta di blu! Altro rossetto, ma stavolta in stick, perché come vi stavo dicendo in qualche video fa, grazie ai Velvet Trap di Jeffrey appunto, mi sto riavvicinando un pochino anche ai rossetti in bullet! Questi li amo, hanno un pack stupendo, tutto calamitato, a forma di proiettile, e sì, questo come potete vedere l'ho già utilizzato, è veramente caldissimo, la colorazione è plastic surgery, e secondo me non sta male anche con questa matita, cioè nel senso l'ho già provato e sfumato bene secondo me ci sta! Eye Gloss, prodotto che mi ispirava tantissimo da quando sono usciti praticamente, io ho la colorazione Voodoo Gloss, è secondo me una delle più particolari, questo è il pack secondario, non so se rende ma è tutto per latino, è tipo rosa per latino, infatti bellino, è tutti i riflessi azzurri! Aprite e c'è il tappino a forma di stella, e questa è la colorazione, cioè secondo me è un botto particolare, ci sta tantissimo, è tipo oro, rosata, è super particolare! Questo è un prodotto che non ho assolutamente problema a prelevare con il pennello comunque, come potete vedere è proprio un dopper, non ha una base colore, anche se magari da qui potrebbe sembrare, in realtà no! Me lo aspettavo, speravo effettivamente che fosse così, perché si può utilizzare anche come illuminante nell'angolo interno, come ombretto, insomma è un po' multiuso! Sempre dalla Wedding Collection Setting Spray, stavolta il pack è semplicemente argento specchiato, mentre questo invece raga è il pack secondario, è tutto 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 perlato, argento perlato, e ha una profumazione di agrumi tipo limone, mandareno, infatti ha estratto di mandareno all'interno, dietro c'è il leghino con la torta, ed ero super curiosa di provarlo, qua c'è un po' un mix di collezioni, infatti Banana Fetish Collection, la Banana Fetish Repair and Revive Lip Mask, io amo le maschere labbra, amo le profumazioni alla banana, e quindi sono sicura che questa la amerò! Questo è il pack secondario, ed ecco qui il prodotto, ha una profumazione di banana, ma tipo caramellina alla banana, mi piace tantissimo, mi viene voglia di mangiarla! Passiamo al prossimo prodotto e abbiamo la crema Magic Star Hydrating and Moisturizer, il pack è qualcosa di gigante, è bellissimo! Voi ve lo dico non siete pronti, perché ok, magari dal sito si può capire più o meno, ma dal vivo è veramente stupenda! Eccola qui, cioè è proprio bello anche come oggetto, l'ha fatto anche per la Banana Fetish Collection, e appunto l'interno invece che essere rosa è giallo! E non so in realtà se anche gli attivi della crema cambiano, o se la formulazione è esattamente la stessa, mi devo informare su ciò! La profumazione è super delicata, sa tipo di rosa, a me non piacciono le profumazioni alla rosa, ma questa è talmente delicata che non mi dà fastidio! L'ho aperta già, perché tanto ho intenzione di andare già subito ad utilizzarla, sono super curiosa di provarla! Ultimo prodotto, o meglio, ultimo oggetto, ho voluto tenere il secondo di Elephant in the Room come ultimo pezzo, perché ci stava, no? E ovviamente un pezzo di una limited edition, perché lo sapete, innamora per Geoffrey, per le sue limited! Sto parlando dello specchio dell'edizione estiva! Eccolo qui, raga, è una cialda di gelato con il gelato colante, tutto in soft touch, e mi piace veramente un sacco! Non vedevo l'ora, appunto, di farvelo vedere per poi iniziare ad utilizzarlo anche nei video! È la classica stella, però con tutto questo pattern in edizione limitata! Non so se si percepisce, ma come in tutti i suoi specchi, qui c'è il suo logo in rilievo, esattamente come qui sotto e qui davanti! Me ne sono innamorata quando l'ho vista dal sito e ancora di più quando l'ho vista dal vivo, è veramente bello! Se siete dei collector di Geoffrey, insomma, potete capirmi! E sempre cosa da collector! Io amo quando aspetto dei pacchi da Geoffrey, non solo per tutti i cosmetici, gli oggetti, insomma, ma anche per le sue cartoline! Perché ogni volta manda le cartoline con le pubblicità, appunto, dell'ultima collezione solitamente! Dall'altra parte ci sono delle foto della campagna, insomma, e io le colleziono! Che anzi, a volte me le scarico e le tengo anche come schermo del computer, tipo in questo momento ho quella della Lavender Collection di Geoffrey nella vasca! Amo quella foto, mi piace tantissimo! Questo era tutto quanto per l'all di oggi! Fatemi sapere qual è stato il vostro prodottino preferito! Io, sinceramente, non riesco a scegliere! C'è una cosa che mi piace più dell'altra! Come al solito vi ricordo di andare a dare un'occhiata giù in infobox perché lì troverete tutti quanti il link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social! Come al solito vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo punto del video! Io vi mando un mega bacione e ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video! Ciao! I'm back! Boom!